Ti è piaciuto quel disco? Sì, ma sai, tutta promozione! Noi DJ, ma anche gli artisti in generale, i musicisti, abbiamo un rapporto molto conflittuale con la promozione, come se fosse qualcosa che non ci riguarda, come dire se ne deve occupare qualcun altro, oppure da guardare di cattivo occhio come se fosse qualcosa che non ha a che fare con l'arte e la creatività, ma qualcosa che manipola e inquina un po' la purezza del prodotto in sé. Chi ha questo approccio e chi invece considera la promozione come parte fondamentale del proprio lavoro. L'esempio che faccio spesso è il seguente, se tu avessi una ditta di magliette, cosa faresti? Non la faresti pubblicità sui giornali, su internet, sponsorizzeresti il tuo sito web? Credi veramente che le persone, soltanto per il fatto che produci magliette, te le vengano a chiedere e le vogliono indossare in tutti i modi? Non le daresti a dei testimonial, che siano essi i tuoi amici, come se dei personaggi già più affermati? Eccetera eccetera. Così come una qualsiasi attività ha bisogno di fare pubblicità e comunicazione, questo è vero anche per noi DJ, a maggior ragione al giorno d'oggi. Investire parte del proprio tempo e anche parte del proprio budget in promozione. Non solo non è da trascurare, ma anzi non si può più evitare. Difficilmente qualcuno si occuperà della sua promozione. Spesso ci lamentiamo che le label prendono i nostri brani e li mettono lì senza fare niente. Potremmo avere anche ragione di lamentarsi perché comunque qualsiasi etichetta ci guadagna se il brano gira e se viene venduto o viene suonato. Però in realtà nessuno più di noi è interessato alla promozione dei nostri prodotti, dei nostri brani, come di qualsiasi cosa che facciamo online e offline. E allora dobbiamo considerare che la promozione è una parte integrante e fondamentale del nostro lavoro, senza guardarla di cattivo occhio. Certo, questo non vuol dire comprarsi like, fare campagne spregiudicate o il fatto che la promozione nasconda una carenza totale di prodotto e di sostanza. Assolutamente no. Una frase che mi piace molto è non c'è un buon prodotto senza una buona comunicazione, non c'è una buona comunicazione senza un buon prodotto. Le due cose vanno necessariamente insieme e anzi dobbiamo solo, tra virgolette, decidere come dividere il nostro tempo. Consiglio che mi sento di condividere è quello di dire 80% del tempo dedicato alla produzione di contenuti e 20% la promozione. Non è mai facile avere una divisione così netta, soprattutto in testa, e avere un'organizzazione così precisa. È una cosa che viene nel tempo, portando avanti il nostro lavoro quotidiano. Però è un obiettivo importante da seguire. Soprattutto cerchiamo di evitare di considerare la promozione come qualcosa di negativo, di manipolatorio, di qualcosa che viene dall'esterno, ma iniziamo a considerarla come una parte integrante e fondamentale del nostro lavoro e quindi ad approcciarci in maniera positiva e costruttiva. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto!